Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Oggi torniamo a parlare di streaming, ma più nello specifico su come costruire un encoder video senza comprare un encoder video da mille e passa euro. Stiamo parlando di un encoder video fatto con un semplice smartphone e soprattutto non utilizzando la fotocamera del nostro telefono, quindi non quella posteriore e neanche quella frontale, ma una vera e propria telecamera professionale e di conseguenza trasmettere immagini in alta definizione senza l'utilizzo appunto di tantissima attrezzatura. Tutto questo subito dopo la sigla. Come si costruisce l'encoder video utilizzando il nostro smartphone? Allora in questo caso, premessa, dovete avere un telefono abbastanza potente. Io in questo caso utilizzerò un vecchio Xiaomi 8 Pro che ha un processore veramente potente e non solo, ha anche tanta RAM a disposizione. Ai tempi costava più di 400 euro, adesso si può trovare ancora 189 euro circa. Oltre a questo ci servirà un cavo USB-C di tipologia ad alta velocità di ricarica, un power bank, in questo caso con annessa ricarica rapida, in questo caso un ROMOS da 20.000 mAh, un adattatore che da USB-C diventa USB normale, oltre a questo è importante che abbia anche il connettore di ricarica, questo è un classico da Mac, ovviamente non è originale, costa circa 20 euro e funziona perfettamente. Una chiavetta per l'acquisizione del segnale da HDMI a USB, queste chiavette costano intorno a 10 euro e sono ultra conosciute su Amazon per costare veramente pochissimo e hanno una qualità abbastanza fedele, soprattutto con il protocollo MJPEG che è molto importante per funzionare fluido sul nostro smartphone. E oltre a questo ci servirà un cavo che da micro HDMI diventa HDMI e una qualsiasi telecamera compatibile con queste chiavette, quindi basterà essere in full HD, quindi con uscita full HD, in questo caso noi utilizzeremo una Sony AX33. Ora andiamo a costruire il tutto. Altra cosa che non vi ho detto, il vostro smartphone deve avere un'applicazione che si chiama USB Camera Pro. Questa applicazione ha il costo di circa 5,49 euro, ma c'è anche in versione free, che è molto limitata. In verità permette anche di trasmettere la versione base, però io consiglio quella Pro perché ha anche altre informazioni veramente molto interessanti. Ma la lasciamo da parte perché la vedremo dopo con calma. Ora siamo pronti ad andare a costruire la nostra regia portatile. Per prima cosa dovremo andare a preparare il nostro cavo USB a USB-C e collegarlo al nostro power bank nella ricarica veloce. Una volta fatto prendiamo il nostro adattatore e colleghiamolo alla base di ricarica. Se avete fatto tutto correttamente ci sarà un LED che vi avvisa che è collegato ufficialmente. La USB la andremo ad attaccare all'interno del dispositivo e il dispositivo, come potete vedere, inizierà a caricare con la ricarica veloce. Questo vuol dire che sta funzionando nella maniera corretta appunto la parte di ricarica. Prendete la vostra pennetta USB e inseritela all'interno della USB 3.0. In questo caso il nostro dispositivo, come vedete, riconoscerà la chiavetta e saremo subito pronti ad avere il segnale. In questo caso è nero perché ovviamente non sta ricevendo nulla. Però potrete notare che in verità il software ha già iniziato ad acquisire, infatti in questo momento è forzato su 30 fps in MPEG. Oltre a questo andiamo a prendere il nostro cavo HDMI. Di conseguenza andremo a collegarlo alla nostra telecamera. Quindi una volta fatto lo andiamo a collegare in questo modo e alla entrata della nostra telecamera. L'accendiamo e colleghiamo la nostra telecamera. In pochissimi secondi, come vedete, il segnale viene agganciato correttamente. Abbiamo, come vedete, una frequenza molto fluida. Infatti possiamo fare anche movimenti, come vedete, molto stabili. E soprattutto l'immagine che viene acquisita è di qualità. E oltre a questo, come potete vedere, viene acquisito anche l'audio. Di conseguenza abbiamo sia audio e video che viene trasmesso in maniera corretta. E questa è come si configura il nostro encoder. Ma adesso più che altro vi mostrerei la configurazione del software, che in questo caso bisogna fare tramite qui. Ovviamente verrà stoppato in caso il live streaming o quello che c'era in questo momento attivo, perché qui entra una vera e propria configurazione del nostro encoder. Qui ci sono delle cose molto importanti da andare a vedere, come ad esempio io una cosa che consiglio è di abilitare lo user hardware decoder. Ho notato che il vostro telefono, se avete abilitato questa funzione, funziona molto più fluidamente e si impalla molte meno volte. Non so come mai, infatti utilizzando l'hardware decoder mi trasmette senza problemi, disattivandolo dopo un tot di minuti, crescia completamente l'applicazione. Oltre a questo abbiamo anche i metodi per andare anche a correggere in caso di drop frame. C'è una funzione molto utile che è l'ampage correction, che in questo caso a me non serve, perché so che questo telefono o trasmette a 60 o trasmette a 30. Oltre a questo abbiamo anche la possibilità di abilitare o disabilitare l'audio che arriva direttamente dall'HDMI della vostra telecamera. Questo è molto utile in caso che voi acquisite anche l'audio direttamente dalla telecamera, di conseguenza avete un mixer esterno collegato, ad esempio la vostra telecamera. Oppure avete anche il volume limiter, quindi potete andare a limitare l'audio che entra in modo che non spari o altre cose. Avete la funzione di deinterlacciamento, volendo anche sulla scheda, in modo da non creare quelle fastidiose righe dell'interlacciato. Ma adesso andiamo alla parte più interessante, cioè la parte del codec. Il codec di per sé, come vedete, abbiamo la parte del server, che in questo caso è il live push. Innanzitutto possiamo andare a specificare a quanti mega trasmettete. Ovviamente si fa sempre uno speed test prima di trasmettere, però qui avete l'imbarazzo a scelta. Potete trasmettere anche a 50 mega, però ricordatevi che andrà a pesarvi sul processore del telefono. Io in questo caso trasmetto a 2 o 3 mega massimo, dove me lo permetta, altrimenti 1 mega e mezzo. Ricordatevi che è in megabyte e non in kilobyte, come ad esempio in vmix o in obs, che bisogna fare il calcolo in kilobyte. Oltre a questo abbiamo il formato di trasmissione, in questo caso il classico di YouTube è l'H264 in ACC. E non solo, il codec, come potete vedere, si può impostare qui, dove c'è ad esempio le coder setting, dove c'è la stringa rtmp o rtmp streaming key. Quelle due righe dovete sostituirle con quelle del vostro canale YouTube, o meglio, quando andate a creare una live streaming su YouTube dovete andare a inserire il server e la streaming key, che in questo caso è univoca su ogni singolo canale. Un'altra cosa molto figa di questa applicazione è il video overlay. Video overlay è molto utile in caso che dovete inserire il logo oppure altre informazioni. Ad esempio io ho inserito qua il watermark, quindi in conseguenza sul canale YouTube apparirà già in automatico, o dove state trasmettendo, il logo dove avete deciso voi di trasmetterlo. Oppure potete ad esempio mettere la data, il timestamp, il device name, il battery info e addirittura il GPS location. Quindi praticamente sapere effettivamente dove sta in quel momento magari la vostra telecamera, il vostro telefono. Questo è molto utile se ad esempio dovete utilizzarlo come encoder ciclistico. Di conseguenza sapete esattamente dove si trova la vostra telecamera. Ovviamente è una cosa timestamp, quindi viene trasmessa in diretta e quindi bisognerà croppare in caso all'occasione. E questa è l'applicazione effettiva sul funzionamento. Come vedete è un vero e proprio encoder funzionante e soprattutto molto fluido. E quindi spero che il video vi sia piaciuto. Come avete visto abbiamo costruito un vero e proprio encoder in pochi semplici passi, ma soprattutto senza pagarlo un rene. Spero che questo video vi sia piaciuto ed è stato utile e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!